Hai mai desiderato vivere una vita da VIP? Avventure, viaggi, esperienze, incontrare persone fighe, incontrare persone famose di successo, comunque persone che hanno qualcosa, che a te piace, che pensi che possono insegnarti qualcosa. E se ci hai pensato, hai mai realizzato che potresti fare tutto questo non solo gratis, ma qualcuno potrebbe anche pagarti per farlo e potresti guadagnare un sacco di soldi. Quindi vorresti sapere come si fa? Seguimi in questo video. Ciao, io sono Roberto Buonanno, lo stratega dietro le quinte di molti dei più importanti influencer italiani, specialista, esperto di YouTube, di influencer e in generale del mondo dei social network, titolare di Tons Hardware Italia e di Tons Network, che è una delle agenzie di influencer marketing più importante d'Italia. E dopo questa manfrina arriviamo al dunque. Allora, tablet alla mano e quando prendo questo è pericolosissimo, perché vuol dire che la mia memoria, non funziona tanto. Come guadagnare su YouTube? Adesso ti spiego come guadagnare su YouTube, perché nell'intro ti ho detto, vi ho detto, che c'è un modo per fare una vita figa, bella, esperienze VIP, inviti nei posti più fighi del mondo, ricevere oggetti che gli altri si sognano, come iPhone, tablet, televisori, computer, tecnologie, cose stupende, inviti a cena, pranzi e ristoranti, le più grandi chef stellati, non solo gratis, facendoti pagare per farlo. Esiste un modo e questo è diventare influencer. Ovviamente io poi sono deviato dal fatto di essere manager di influencer da oltre otto anni ed essere stato anche lo stratega dietro le quinte di tanti dei più grandi successi in Italia, del mondo degli influencer. Ora ti racconto come si guadagna, specialmente su YouTube, che è la piattaforma che io dico sempre di mettere in primo piano. Se ti creati una carriera di influencer duratura, oggi il modo migliore, a mio parere, a nostro parere, a parere del mio grande team di super esperti, la migliore squadra che ci sia in Italia di talent management, per il mondo degli influencer del web, è di lavorare su due piattaforme, YouTube più Instagram. Allora, YouTube è fondamentale per la carriera di un influencer, per un motivo molto semplice, perché ti crea dei guadagni, non dico automatici, ma scollegati da qualsiasi altro tipo di attività. Che cosa vuol dire? Se su YouTube hai successo, quindi hai popolarità, visualizzazioni, hai tanto tanto traffico, guadagni a prescindere da qualsiasi attività tu faccia. Su Instagram, TikTok, Facebook, su tutti gli altri social, invece raramente e in pochissimi casi esiste una monetizzazione diretta. Per tutto il resto delle attività commerciali, devi fare qualcosa che di solito si chiama branded content, ovvero, è volgarmente detto marchetta da alcuni, product placement dagli altri, attivazione da chi vuol fare quello un po' più nobile, io lo chiamo pane pane e vino al vino, devi fare pubblicità a un'azienda e i suoi prodotti. Punto e basta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che su Instagram tu potresti avere 2 milioni di follower, 10 milioni di follower, ma da Instagram non ti arriverà un euro spaccato, questo è zero. Su YouTube, se tu hai un milione di iscritti e basta, ma non fai video, ti arriva zero. Se fai 1, 2, 3, 10, 100 milioni di visualizzazioni al mese, YouTube stessa ti manda del denaro, perché la sua forza vendite, che si chiama AdSense, qualcosa del genere, la sua forza vendite, posizionare dei contenuti commerciali, delle pubblicità, dei pre-roll, dei video, dei bannerini, nei tuoi video, trattenendosi una cospicua parte, solitamente più della metà degli incassi, però lasciando a te con grande generosità la parte restante. Cosa vuol dire? Su YouTube, il primo modo per guadagnare soldi è questo, avere un canale che genera una buona quantità di visualizzazioni. Quanto è buono? Allora, qui ci sono delle statistiche che dipendono molto dal tipo di pubblico che hai. Se hai un pubblico di bambini, per esempio, guadagnerai pochi centesimi per ogni mille visualizzazioni. Ecco, noi valutiamo solitamente i guadagni in euro o frazioni di euro per mille visualizzazioni, che io chiamo RPM, revenue per migliaio di visualizzazioni. Ok? Oppure a volte lo chiamo ECPM, però chiamiamolo RPM, che mi piace, sa di il contagiri dell'automobile. Come puoi guadagnare e quanto? Le entrate pubblicitari, quelle di cui ho parlato fino adesso, si basano molto, quindi sul tipo di pubblico e sulla tipologia di pubblicità che tu permetti a YouTube di introdurre nei tuoi video. Innanzitutto, devi avere attiva la monetizzazione. Le regole le vedi qui sotto in dettaglio. Ci vogliono migliaia d'ore di watch time, tot iscritti, insomma il canale deve essere già avviato. Ma per un motivo molto semplice, perché attivare la monetizzazione su un canale che fa 10.000 visualizzazioni al mese è quasi inutile, perché per quale che sia il tuo target, con 10.000 visualizzazioni al mese, al massimo porti a casa 20 euro. Cosa vuol dire target? Praticamente l'investitore pubblicitario cerca quasi sempre i cosiddetti spender, cioè i potenziali clienti che quando vedono la pubblicità ci cliccano, vedono un pre-roll, pam, fanno il click e poi effettivamente diventano acquirenti o diretti, se c'è un link per mettere il prodotto in un carrello, già nella pagina di destinazione, cioè dove arrivi col tuo browser dopo che hai cliccato su quel banner, pre-roll, eccetera eccetera, oppure indirettamente, immaginiamo per esempio la Ferrari pubblicizza il suo ultimo bolide, tu vedi, chiaramente non è che c'è il link per comprare la Ferrari, vai a concessione e dici senta vorrei una Ferrari e ti mandano fuori a calci nel sedere. Qual è il target di pubblico migliore per guadagnare? Dai 18 ai 45 anni, possibilmente in settori dove è più facile la monetizzazione diretta. I più ricchi al momento sono quelli legati ai prodotti finanziari, infatti, chi fa video sugli investimenti, criptovalute, eccetera eccetera, guadagna tantissimo e ha un RPM molto molto elevato, ok? Potrebbe essere anche addirittura 5-10 euro ogni 1000 visualizzazioni se lavori proprio bene, bene, bene. Questi numeri poi negli Stati Uniti sono decuplicati, nell'America Latina, in Cina non c'è YouTube e in altri paesi diciamo a basso sviluppo economico 10 volte meno e in paesi evoluti ma non a livello degli Stati Uniti Gran Bretagna, Francia, Giappone sono almeno 2-3-5 volte più elevati rispetto a quelli italiani. Quindi, primo dato, se vuoi iniziare a fare successo e sei madrelingua con qualsiasi accento americano-stato-unitense, ecco, fai video in quella lingua lì, se no falli in italiano, andrei sempre bene. Non vado avanti sul discorso dei target, eccetera, 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 perché non mi sembra il caso. Vi dico solo che nella mediaccia nazionale, mediaccia, 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 tra canali bambini, medi, grandi, adulti, si guadagnano 50-60 centesimi ogni 1000 visualizzazioni. Un canale come quello dei Me Contro Te, per esempio, potrebbe portare a casa tranquillamente in certi mesi anche 100.000 euro e oltre solamente dalle entrate pubblicitarie derivanti dalla forza vendita di YouTube, ok? Se le stesse visualizzazioni le avessero nel settore tecnologia, faccio un nome a caso, guadagnerebbe un milione di euro solo da quello. Per esempio, il settore della tecnologia ti può portare anche RPM di 2, 3 euro, 4 euro, ok? Iniziano a diventare soldi. Bimbi, 20-30 centesimi. Gaming, 50-60-80 centesimi. Per 1000 visualizzazioni. Non sempre. Non sempre. Abbonamenti al canale e i sistemi di monetizzazione alternativa. Anche qua, molti pensano che serva un pubblico enorme per avere gli abbonati, serva a fare live streaming, serva a fare un sacco di attività. Invece no. Per esempio, ci sono molti canali che riescono a fare tanti introiti della monetizzazione alternativa offrendo al proprio pubblico dei contenuti esclusivi se sei abbonato, le anteprime, dei posti della community dedicati solo agli abbonati. È complesso, solitamente, questa monetizzazione con abbonamenti, super chat, stickers, quel che l'è, funziona bene quando il canale è già popolare o comunque quando l'influencer ha tanta tanta presa su una buona quantità di pubblico. Merchandising. Anche qua devi essere uno o una che ha grande presa a un pubblico molto fidelizzato. Oggi è possibile inserire direttamente su YouTube se hai uno shop gestito con Shopify un tuo carrello dei prodotti da acquistare che sono magliette, tazze, cappellini. Chiaramente YouTube ci mette sempre la sua stecca, la sua fetta. Tac! Però è molto, molto utile, molto proficuo e funziona veramente bene. Anche qua è una fonte di guadagno che si attiva quando sei già abbastanza avanti col successo perché questi prodotti vanno realizzati, progettati, il sito Shopify comunque costa, devi fare una grafica, un logo, mettere in piedi un circolo di questo tipo costerà 2, 3, 4, 10 mila euro. Ecco, non è per tutti. Ovviamente poi il merchandising tu lo puoi vendere dove ti pare. Per gli influencer più famosi è la forma di introdotto più importante nello spaccato del loro fatturato. Immaginiamo per esempio, adesso parlando di merchandising, di prodotti a brand, eccetera, eccetera, se come Lion tu vendessi 200 e passa mila copie di un libro come tu prenderai una console centinaia di migliaia di copie per libro o come ciccio migliaia di magliette e altri gadget promozionali evidentemente saresti felice degli introiti che ne derivano. Prima però devi diventarci ciccio to player Lion e compagnia bella. Non è facile, ecco. Far acquistare i tuoi prodotti non è facile. Adesso posso appoggiare il tablet perché l'ultimo punto lo conosco benissimo, ovvero i branded content, i cosiddetti product placement. Per esempio, le zanzare ti tormentano, la tua pelle è tutta buboni, scoriazioni, ferite, abrasioni, perché arriva la zanzarona, ti faccia una bolla di 14 cm, tutti gratti come una iena in calore. Zampirone, naturale, a base di erbe. Non fa male a nessuno e se non ci sono zanzare lo puccia in acqua calda ed esce un'ottima tisana. Adesso ho fatto un product placement gratuito. Non è zampirone. Caspita, ho perso l'occasione di guadagnare soldi da quelli che fanno lo zampirone originale. Il product placement avviene quando introduci nei tuoi contenuti, che siano post, storie, video, la presenza di un oggetto. Per esempio, che ne so, quando vedete degli oggetti alle spalle degli influencer nella loro normale situazione da video, nel loro studio, nella loro cameretta, nel loro set, non sono messi lì per caso. Cioè, pochi sventurati mettono gli oggetti a c***o di cane, parliamoci chiaro. Le cose che sono dietro o sono il loro merch o sono cose fighe che gli piacciono o sono prodotti messi lì perché fanno parte di una campagna di marketing. Quindi sono prodotti per i quali l'influencer è pagato perché li mette in esposizione. Come è giusto che sia? I product placement solitamente richiedono uno sbattimento, nel senso che devi avere i contatti con le aziende o avere un'agenzia come la nostra che è al top in Italia, creare posizionamento esagerato e poi presentarti ai più grandi brand di Italia e del mondo. Quindi sbattimento, contrattazione, contratto, esecuzione, pubblicazione che sia appunto io che faccio vedere il libro piuttosto che una clip di 60 secondi inserita proprio bam nell'editing del video zampirone. Oppure a voce l'avete sentito spesso questo video è offerto da Tom's Network la più grande realtà italiana per gli influencer di tutto il mondo. Che promo pessima che ho fatto. Ecco, queste sono le varie forme di product placement che ci possono essere all'interno di un contenuto di un influencer. Ovviamente uno, sbattersi a procurarlo, due, erogarlo correttamente, gestire contratti, fatturazione, recupero credit perché ragazzi al mondo d'oggi non pensate che la gente vi paghi semplicemente perché voi mandate una fattura. Anzi, in Italia lo sport nazionale è uno, pagare il ritardo, quindi la fattura scadenza 30 giorni te la pagano 90, 120, 360, mai e due, rompere le palle per dire eh no, ma io adesso ti mando una richiesta di rimborso, voglio la rota di credito perché in quel video l'influenza da fare uno spot di 60 secondi l'ha fatto di 59,59.1 Ecco, secondo sport nazionale è cercare di tirare sul prezzo e rompere le palle. Per fortuna il terzo sport non c'è più perché da quando sono professionisti come noi in questo settore non è più possibile ancora in fregature ma ci sono proprio anche vere e proprie fregature tra cui il phishing se vi ricordate l'anno scorso quanti canali hanno rubato come li rubavano ti mandavano in me dicendo guarda caro tal dettaglio di 95 ho per te 2000 euro se mi fai la pubblicità di questa cosa qui semplicissima te li mando subito bastano 30 secondi il tuo video clicca qui sentireci su questo sistema di chat perché così parleremo meglio ecco tu dal tuo smartphone al tuo computer andavi a quel link e questo link semplicemente prendeva possesso dalla tua sessione youtube cambiava la password ti bloccava e poi sul tuo canale apparivano live di servizi farlocchi e sicuramente poco legali di abbonamenti a che ne so informazioni su criptovalute e cose del genere da quando ci sono agenzie come la nostra e ovviamente la nostra è quella che ti consiglio che vi consiglio queste cose succedono rarissimamente se non mai la terza cosa è che devi tutelarti perché potrebbero succedere le cose più brutte uno il cliente sparisce non ti paga ma tu gli hai fatto pubblicità due potrebbe denunciarti perché si inventa che in qualche modo l'hai danneggiato facendo una cosa male o semplicemente potrebbe evitare del tutto di pagarti perché dice appunto io ho detto che devi farmi un video tu l'hai fatto con la polo bianca non mi piace il bianco è il colore del mio concorrente non ti pago e lì vai con lettere di avvocati tribunale capirai bene che se tu spendi la buona parte del tuo tempo delle tue energie per fare contratti fatturazioni recupero crediti e litigi in tribunale probabilmente i tuoi canali youtube e i tuoi social network andranno male ecco perché io dico sempre affidati ad un'agenzia qui sotto vedi i contatti di Tons Network siamo i migliori non vedo perché andare oltre insomma poi le prove sono qui dietro di me con i prodotti più venduti nel mondo degli influencer italiani nel 2020 e questo è un 2021 ripeteremo la magia e poi c'è un ultimo metodo di guadagno che stavo quasi per dimenticare che è quello delle affiliazioni cosa sono le affiliazioni? si tratta di speciali programmi che le aziende specialmente quelle che vendono online offrono agli influencer alle testate online ai blog ai web magazine a chiunque in realtà per fare in modo che tu gli porti clienti acquirenti in cambio di ricevere delle commissioni quindi delle percentuali di guadagno di incasso su quella che sarà la cifra del prodotto che fai vendere allora ci sono commissioni di affiliazione per i servizi bancari ci sono commissioni per vendere prodotti tramite ebay tramite amazon ci sono circuiti di affiliazione di ogni tipo corsi di formazione quasi tutti usano le affiliazioni soprattutto nel mondo delle vendite online perché sono potentissime solitamente le affiliazioni lavorano in un modo che per le aziende è straconveniente loro ti danno il programma affiliazione e ti dicono ecco qua se tu proponi i link di acquisto ai miei prodotti ti do una piattaforma che ti fa diventare ciascun link generico immaginiamo il link per l'ipad pro tu lo prendi lo inserisci nella piattaformina piuttosto che trovi già il bottoncino come su amazon e te lo converti in un tuo link affiliato cioè un link che include un tuo codice speciale con il quale poi quando un utente ci clicca l'acquisto viene rimandato e riferito a te ok solitamente per le aziende questo è un discorso molto conveniente perché loro non ti pagano un fisso ti danno solo la parte variabile ovvero una commissione percentuale su quante vendite effettivamente generano i tuoi contenuti per esempio Revolut in questo momento ti dà 50 euro se porti un amico a fare la carta Revolut lo puoi fare anche tu senza essere influencer se ti trovi bene con il servizio condividi il tuo link speciale che trovi dentro la tua applicazione Revolut che io uso e vada dio a parte quando ti fanno i controlli sull'entrata ma è un altro discorso non parliamo di controlli sull'entrata di Revolut dai anche un servizio perché effettivamente se tu stai parlando di un prodotto è anche comodo che chi ti segue abbia poi un linkettino in descrizione oppure con lo swipe up e ogni volta che tu mandi qualcuno sulla piattaforma del tuo affiliato guadagnerai dei soldi ecco io conosco sia in gestione che non in gestione ragazzi che tramite le affiliazioni fanno veramente da alcune migliaia a svariate decenni di migliaia di euro al mese ecco io chiudo questo video su come si guadagna su youtube con un unico appello per iniziare a guadagnare devi innanzitutto avere un canale che funziona quindi la prima cosa che devi fare è lavorare molto bene applicare costanza continuità non mollare mai cercare una nicchia di valore avendo già ascoltato i miei contenuti capirai che se per esempio ti lanci nel mondo dei bambini di tre anni sarà veramente difficile monetizzare su youtube a meno che tu non faccia tanti milioni di visualizzazioni se invece ti applichi per lavorare in una nicchia di valore come che ne so tecnologia la ristorazione certi hobby molto specifici la pesca la caccia il golf ecco potresti avere poche visualizzazioni ma tanti tanti guadagni e poi c'è l'ultima forte di guadagno che non ho citato ma che per questi canali tematici che lavorano su nicchia specifica è molto importante per esempio fai un canale cucina che diventa di successo e magari tratti un argomento molto verticale che ne so per esempio ricette di pesce del tirreno caspita inizieranno a mandarti libri prodotti da assaggiare inviti a ristoranti quindi il guadagno che avrai sarà anche di prodotti e servizi che le aziende ti offriranno in maniera completamente gratuita solo perché tu faccia un posto un video o perché tu esprime il tuo parere nel mio caso per esempio io come recensore Amazon Vine come titolare di Tonsard e come youtuber di un certo livello ho ricevuto tantissimi prodotti per i quali poi ho dato chiaramente in cambio un servizio che è stato quello di dare visibilità a questi prodotti sui miei canali ecco quindi l'ultima fonte di guadagno è questa ultimo consiglio impegnati prima e già che hai saputo queste nozioni ecco cercati un settore una nicchia un verticale dove già sai fin dal principio che potrai avere ottimi guadagni grazie per avermi seguito voglio i tuoi commenti qui da Roberto Borano è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao